bene amici per la rubrica io resto a casa oggi vi proponiamo una lettura un po' differente dalle solite si tratta di un testo letterario molto citato in questi giorni che ha effettivamente un impatto dirompente per leggere le dinamiche attuali di natura profondamente umana di approccio a una tragedia come quella che stiamo vivendo di scala globale e questa lettura è quella ultracitata di Albert Camus la peste un libro davvero molto molto bello profondo che pone interrogativi seri e che tratta la vicenda storicamente non non vera ma con tutto un apparato molto verosimile che la vicenda della peste in un anno imprecisato degli anni 40 del novecento occorsa nella cittadina coloniale francese in Algeria di Orano e allora ci sono alcuni passaggi che pur essendo ovviamente letterari appartenenti a quell'ambito ci inducono a riflettere anche sugli aspetti politici se vogliamo geopolitici che stanno accadendo in questo scenario globale profondamente critico primo aspetto c'è la perdita delle certezze che riguardano nel caso del libro gli aspetti più propriamente esistenziali ma che non che nel nostro caso specifico specifico hanno propriamente a che fare con la globalizzazione noi stiamo vivendo un periodo di mutamento di cambiamento di transizione di crisi dalle certezze precedenti che appartenevano al mondo proprio della globalizzazione ad un mondo futuro noi siamo dentro questo vortice che in qualche maniera ricorre nelle parole di camion ma soprattutto e ancora di più si ravvisa il senso della profonda chiusura la perdita delle certezze anche a che fare con la chiusura il ritorno la vendetta dei confini che qui si esprime perfettamente nella chiusura ermetica della città di Orano e nella progressiva chiusura delle persone nelle proprie case e nella vita che da normale si trasforma in una vita certamente dissimile dal 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 solito e ci sono un paio di passaggi che davvero ci preme rileggere insieme a voi perché appaiono di enorme attualità soprattutto in quelle parole espresse dal prete nel libro da padre pallone le sue prediche una è questa qui ci riporta alla mente lo spiraglio di luce che pure cerchiamo di intravedere al di là del tunnel oggi ancora per questo tragitto di morte d'angosce di clamori ci guida verso il silenzio essenziale verso il principio d'ogni vita ecco fratelli miei l'immensa consolazione che volevo recarvi sì che non siano soltanto parole di castigo quelle che porterete via di qui ma anche un verbo che acquieta e poi nel nel finale c'è un aspetto politico forte enorme che è quello che vogliamo riportarvi con queste parole ed è l'ammonimento fondamentale che ci sembra trasparire dalle ultime pagine di questo libro è l'ammonimento a non dimenticare quello che è stato non dimenticare quella che è stata l'esperienza tragica della peste in quella città sia dal punto di vista esistenziale e noi ovviamente lo riportiamo dal punto di vista politico e allora ancora una un ulteriore passaggio da questo straordinario libro e qui davvero il il parallelismo sembra essere evidentissimo con coloro i quali restano coloro i quali sono impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus all'epoca in questo libro nell'ambientazione di questo libro contro la peste perché c'è un ulteriore elemento di continuità che viene messo in luce dallo scrittore che è tra coloro i quali anelano a una vita e a una morte sante e coloro i quali non potendo anelare a quel tipo di santità eppure rimangono fedeli al proprio dovere svolgono il proprio lavoro quotidianamente e allora qui padre pallu che cosa dice fratelli miei bisogna essere colui che resta e ancora e vi lasciamo con con questo bisognava soltanto cominciare a camminare in avanti nelle tenebre un po alla cieca e tentare di fare del bene ma per il resto bisognava restare e accettare di rimettersene a dio grazie